Gli effetti, se ci sono stati degli assembramenti, chiamiamoli così, del periodo natalizio, post-natalizio di Capodanno, si stanno vedendo questa famosa terza fase? È arrivata, è un po' più attenuata di quello che si prevedeva? Qual è la situazione? Ecco, partiamo dalla sua ultima affermazione. È un po' più attenuata, per fortuna. Noi abbiamo sempre un certo numero di insufficienze respiratorie che ci visitano ogni giorno e 4-5 qui a Pescara ricoveri di pronto soccorso tutti i giorni. Però credo che l'azione di mitigamento che c'è stata, cioè di riduzione dell'attività di assembramento, ha dato un buon risultato, altrimenti potevamo temere peggio. Possiamo dire da oggi che da qui a qualche settimana la situazione potrebbe lentamente migliorare? Poi è ancora presto? È un po' presto, perché c'è la coda che necessariamente si associa in queste fasi dei contagi nosocomiali. C'è comunque un'attività costante, per cui perché gli effetti di questi numeri così bassi di questi giorni si ripercuotano in un reale carico ridotto dei nostri reparti, io credo che ancora una mesata dobbiamo aspettarla. L'Abruzzo è una delle regioni dove sono stati fatti più vaccini, tra le prime sei nel nostro paese e questa è una bella notizia però. Ci fa molto piacere soprattutto perché per l'economia della nostra area. Quanto prima raggiungeremo una copertura adeguata a poterci consentire una ripresa dell'attività ordinaria, tanto prima tutto il nostro sistema tornerà a fruire. E da oggi è possibile prenotare le vaccinazioni per gli over 80 e questa è una cosa davvero importante in questo momento? È una cosa importante, è una cosa bellissima, mi sembra un'eccellente soluzione organizzativa che permette di avere delle liste pronte cui attingere in continuo man mano che il vaccino è disponibile. Quindi io trovo che l'iniziativa è davvero molto molto lodevole. Grazie.